Musica Mal tempo da mezzanotte all'erta meteo gialla. La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valido per tutta la giornata di domani. Particolarmente colpite le zone costiere. Benzinai, sciopero revocato ma giornata di disagi. Cancellata la seconda giornata di protesta da domani in pianti aperti. Oggi adesione oltre il 70% dei gestori. Per gli automobilisti la caccia continua e distributori rimasti aperti ed è protesta per il prezzo della benzina. Giabil, blocco e cancelli, revocare licenziamenti. Si sciopera oltranza da stamane davanti allo stabilimento di Marcianise per scongiurare i 190 licenziamenti che l'azienda americana ha confermato al ministero. Il sindacato accusa troppe promesse non mantenute. San Pio, violenza in ospedale, adesso si corre ai ripari. Siamo sconcertati, commenta così l'ennesima aggressione ai danni degli operatori sanitari di Benevento. Il presidente dell'ordine degli infermieri Procaccini. Quattro episodi nelle ultime settimane sono davvero troppi. Dobbiamo correre ai ripari. Minacce in aula a Todisco, festa, abbassare i toni. Caso maggio ad Avellino, interviene il sindaco, condanno tutto quello che è accaduto in aula lunedì e invito tutti ad abbassare i toni. Ma l'opposizione insiste, intervenga il prefetto, il presidente del consiglio comunale si dimetta. Fonderia e il comune avverte via la fabbrica da Salerno. L'amministrazione è pronta a incontrare la proprietà dell'azienda per chiedere garanzie sulla delocalizzazione dello stabilimento. Il consigliere comunale Arturo Iannelli conferma la fabbrica non può stare più. Dov'è ora? Buonasera e ben ritrovati con il TG News. In apertura di questa edizione del nostro telegiornale, lo avete appena sentito dai titoli, La protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore giallo valido a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, giovedì 26 gennaio. Nelle aree tra Napoli, La Costa e Il Cilento si prevedono rovesce temporali che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. I fenomeni temporaleschi infatti saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potranno essere accompagnati da fulmini grandi nel raffiche di vento. Sui rilievi invece si annunciano precipitazioni a carattere nevoso oltre i 600 metri di altitudine. Raida punitiva al titolare del ristorante, quattro le condanne inflitte dal Tribunale di Napoli, la giustizia fa il suo corso e difende i cittadini onesti, il commento del sindaco Manfredi. Vediamo. Quattro condanne a cinque anni e quattro mesi di reclusione, anche per Patrizio Bosti Junior, rampollo del clan Contini, per una triste vicenda avvenuta lo scorso 15 maggio a Forcella, nel cuore di Napoli. Quella sera un gruppo di persone si resero protagoniste di raid punitivi ai danni del titolare del ristorante Cala la Pasta e di alcuni turisti sudamericani, dopo che un giovane in sella una moto senza targa che sfrecciava a tutta velocità aveva investito la compagna del proprietario dell'esercizio commerciale e gli stessi turisti di nazionalità argentina. Le condanne riguardano Bosti Junior, ma anche Gennaro Vitrone, Luigi Capuano e Giorgio Marasco. La vicenda suscitò l'indignazione dell'opinione pubblica e di numerosi politici. La sentenza è giunta al termine di un processo celebrato col rito immediato. La procura di Napoli aveva anche chiesto un risarcimento d'anno da due milioni di euro che il giudice ha rimesso al Tribunale Civile. Le condanne inflitte agli esponenti del Can Contini per il raid punitivo ai danni del titolare del ristorante Cala la Pasta testimoniano che la giustizia fa il suo corso e difende i cittadini onesti. Come comune ci eravamo costituiti parte civile e la domanda è stata accolta e siamo e saremo sempre vicini agli imprenditori che operano nella legalità e per lo sviluppo dello stesso territorio. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Lo sciopero dei benzinai, giornata di disagi per gli automobilisti in Campania, ma è stata revocata la seconda giornata di protesta adesione oltre il 70%. È terminato con 24 ore di anticipo lo sciopero dei benzinai, revocata dopo un incontro al Ministero a Roma con i sindacati la seconda giornata di protesta. È stata stimata intorno all'80% la soglia dei distributori di carburante che hanno aderito anche in Campania allo sciopero della categoria. Quello che ci stanno chiedendo è qualcosa di assurdo, cioè è come se io chiedessi ai governanti italiani o qualcosa del genere qual è la media dei loro colleghi europei. Per gli automobilisti è stata una giornata all'insegna dei disagi. Mi sono fatto tutto il giro ma niente, tutti chiusi. Sono rimasto a piedi. Devo lasciare la macchina qua per andarmene, a piedi. Il problema dell'aumento dei carburanti è molto serio. Io penso che ci stiano marciando anche un pochino sopra. Il benzinaio fanno un po' di danno ai cittadini, però come tutti gli sciopero non si conclude niente. La manifestazione è bassa, la chiusura è bassa. Dopo tutte queste accise, queste tasse, questa città martoriata, io credo che questo sciopero possa solo danneggiare questa città. Non credo che sia un valore aggiunto. Io penso che fanno bene a rimanere chiusi. Devono creare un disagio, lo devono creare per la moltitudine, perché se non creano il disagio le cose non cambiano. Non ho capito perché i benzinai non vogliono mettere il prezzo che dicono il governo. È una semplice scritta vicino alle pompe di benzina. Penso che non c'è niente di male. Una ragazza di 24 anni è morta a Pozzoli nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie, dal quale era stata dimessa poco prima. La giovane era ricorsa alle cure del pronto soccorso, presentando una fuoriuscita di sangue dal naso. È stata curata dallo specialista per varici al setto nasale ed è stata successivamente dimessa. In serata la giovane è stata però colta da un malore, mentre si trovava nella sua casa ed è stata nuovamente riportata in ospedale, dove è giunta in arresto cardiaco per i sanitari. Spiega la ASL, non è stato possibile scongiurare il decesso. Prosegue ad oltranza. Marcianise, lo sciopero dei dipendenti della Jabil, sono 190 a rischiare il licenziamento. L'azienda con un'arroganza unica attesta e riconferma che a fronte dei licenziamenti l'unica alternativa è un accordo al buio, che è una sorta di prelicenziamento che noi rigettiamo al mittente. Nulla da fare per i 190 dipendenti della Jabil, l'industria americana che è a Marcianise produce componenti e circuiti elettronici che ora rischiano il licenziamento. Ieri fumata nera al Ministero per lo Sviluppo Economico. L'azienda ha confermato infatti i tagli di gran parte dei dipendenti entro il prossimo 30 gennaio. Da questa mattina presidio permanente e proteste anche per dire no all'unica alternativa offerta dall'azienda. Le precedenti ricollocazioni sono state fallimentari perché la Soffro, la buona azienda del territorio che ha preso 250 lavoratori dalla Jabil e la Jabil ha dato 80 mila euro al lavoratore, sono già due anni, due anni e mezzo che stanno in regime di cassa integrazione e addirittura sono più di tre mesi che non percepiscono lo stipendio. In mattinata l'Assemblea dei Lavoratori esciò però ad oltranza, anche perché le alternative ai licenziamenti non offrono garanzie. Noi continueremo a lottare insieme ai lavoratori per evitare che su questo territorio si continui a depauperare il tessuto industriale e quindi licenziare i lavoratori. Noi non siamo disposti, come fanno invece altri, a mettere la testa nella sabbia e non guardare in faccia alla realtà. Tragedia all'alba di oggi a Napoli per la morte di un ventottenne precipitato dal quarto piano di un palazzo in via Duomo, tante le persone a corse che hanno fatto scattare l'allarme all'arrivo dei soccorritori, però per il giovane non c'era già nulla da fare. Sul posto per i rilievi la polizia di Stato e la scientifica che hanno raccolto una serie di elementi per ricostruire l'accaduto. Come sempre in questi casi gli investigatori non tralasciano nessuna ipotesi, resta infatti da stabilire se si sia trattato di un drammatico incidente o se alla base dell'accaduto possa esserci altro. Al termine dei rilievi la salma del ventottenne è stata trasferita in obitorio in attesa che il magistrato disponga eventuali accertamenti medico-legali. Gestione dei beni confiscati è la sfida della transizione ecologica con le comunità energetiche. Il vicepresidente della regione Fulvio Bonavitacola rilancia il patto con le cooperative della Campania. Il movimento cooperativo è parte della storia del Sud e della Campania. Partendo da questo presupposto il vicepresidente regionale Fulvio Bonavitacola ha aperto il congresso di Lega Coppa a Napoli. Il numero 2 di Palazzo Santa Lucia ha sottolineato le opportunità della stretta sinergia istituzionale che si vuole portare avanti. C'è il grande tema dei beni confiscati. Noi vogliamo aprire un tavolo con il mondo cooperativo per capire quali sono le opportunità che questo grande patrimonio può offrire all'iniziativa cooperativa. Poi più in generale c'è il tema delle cooperative del campo dei servizi sociali. Oggi abbiamo anche una sfida nuova che sono le comunità energetiche. e il movimento cooperativo direi che proprio nel suo DNA ha una cultura associativa del tutto coerente con questo strumento che coniuga la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico e anche, perché no, condizioni di accesso al servizio energetico sono migliori per i cedi meno abbienti. Per Lega Coppa Campania il partenariato pubblico-privato rappresenta un punto di riferimento ma non mancano le incertezze per il futuro. Si prospetta un anno particolarmente difficile. Se guardiamo i dati del dossier sulle povertà regionali della Caritas del 2022 ci rendiamo conto che sono dati agghiaccianti per le famiglie e per le imprese. Siamo sconcertati, commenta così l'aggressione ai danni degli operatori sanitari di Benevento il presidente dell'ordine degli infermieri Procaccini. Quattro episodi nelle ultime settimane sono davvero troppi. Dobbiamo correre ai ripari. Sentiamo. E' un'anime la condanna dal mondo sanitario per le aggressioni nei pronto soccorsi che si stanno registrando a Benevento. Ieri l'ennesimo episodio all'ospedale Sampio dove i familiari di un paziente hanno aggredito verbalmente i sanitari che se ne stavano prendendo cura. E dunque il presidente degli infermieri condanna fermamente l'accaduto. Sono sconcertato da queste escalation di aggressioni che sono avvenute nel territorio sanita e ne abbiamo avuto quattro nell'ultimo mese. che hanno avuto sempre come vittima principale gli infermieri, gli operatori sanitari in generale, ma in modo particolare gli infermieri che sono lì per offrire delle cure ai cittadini e per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Infermieri spesso stressati per le carenze di organico e spesso demansionati e dunque Procaccini avanza delle proposte. Chiediamo maggiore sicurezza per gli operatori sanitari e una maggiore informazione ai cittadini perché i cittadini magari si rivolgono al pronto soccorso per avere delle risposte ai loro bisogni di salute, ma il pronto soccorso non può dare tutte le risposte ai cittadini perché ci sono anche altre strutture sanitari. E poi magari maggiore presenza di forze dell'ordine e anche un inasprimento delle pene. Ad Avellino interviene il sindaco Festa. Condanno tutto quello che è accaduto in aula lunedì e invito tutti ad abbassare i toni. Sentiamo. Sulla bufera scatenata dalle esternazioni offensive in aula consigliare del presidente Ugo Maggio arrivano le dichiarazioni del sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Dal primo cittadino un invito a tutti ad abbassare i toni della contesa politica. Prima delle affermazioni di maggio il presidente era stato pesantemente apostrofato dai banchi della minoranza e quasi fisicamente incalzato mentre era intento a garantire il rispetto del regolamento consigliare. Detto questo, continua il sindaco, l'amministrazione che mi onoro di rappresentare condanna la violenza in ogni sua forma. Dunque anche tutto quello che è accaduto in aula consigliare lunedì sera. Convinto che un dialogo costruttivo ma rispettoso anche quando è acceso sia il sale della democrazia e che non possa che far bene alla città esorto tutte le forze di maggioranza e di minoranza ad impegnarsi per evitare che la legittima ed inevitabile contrapposizione politica sul merito e sul metodo possa degenerare nuovamente nell'offese degli attacchi personali sia dentro che fuori dall'aula consigliare. Ma l'opposizione ancora oggi ha ribadito la necessità sul caso di un intervento del prefetto Spena. Le scuse probabilmente sono state peggiori anche delle offese perché hanno offeso l'intelligenza non solo dei consiglieri ma di tutta la città. Il prefetto deve intervenire perché non è possibile pensare che in un'istituzione si possano dire parole tali. A Salerno il Comune è pronto ad incontrare la proprietà delle fonderie per chiedere garanzie sulla delocalizzazione dello stabilimento lo ha annunciato il consigliere comunale Arturo Iannelli. Metter fine allo scontro dialettico ma accelerando il processo di delocalizzazione delle fonderie Pisano è la strada indicata da Arturo Iannelli presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno che ancora di più dopo l'ennesimo botto e risposta tra aziende e comitati intende incontrare la proprietà dello stabilimento di Fratte. Anche per capire rispetto a quello che è il progetto di delocalizzazione a che punto siamo ma il nostro lavoro e il mio in particolar modo come ho sempre detto è quello che le fonderie debbano andare via da Salerno. Io sono certo che c'è un rischio voglio dire perché a Nasi una fabbrica non può insistere all'interno delle case voglio dire anche se loro hanno attivato tutte le misure di cautela. Per il consigliere comunale che nei mesi scorsi ha organizzato un tavolo tecnico sulle fonderie Pisano è importante far passare un messaggio corretto un nuovo stabilimento infatti secondo gli annelli potrà rappresentare una grande opportunità per il territorio che lo ospiterà. Dobbiamo sfatare il mito che le industrie sono solo una cosa negativa le industrie moderne costruite con tecnologie moderne portano lavoro e hanno un impatto zero quindi la prima cosa che dobbiamo fare è arrivare a questa guerra perché se no a fine fonderia non se le prenderà mai nessuno non le vuole nessuno nel territorio pensando così invece noi siamo in un'epoca in cui una fonderia di seconda fusione vale a dire tutto il materiale di riciclo in un ciclo di raccolta differenziata potrebbe diventare una risorsa importante perché creiamo lavoro con un impatto zero e ricicliamo tutto. A Napoli inaugurata la foresteria solidale per ospitare i familiari dei piccoli degenti ricoverati in ospedale alla cerimonia presenti anche l'arcivescovo emerito il cardinale Crescenzio Sepe. Inaugurata la foresteria solidale della casa di Tonia ospiterà le famiglie di bambini ospedalizzati o che ricevono cure negli ospedali napoletani provenienti da fuori città. Oggi il taglio del nastro ha la presenza del cardinale Crescenzio Sepe arcivescovo emerito di Napoli che ha voluto la casa di Tonia che ospita già una casa famiglia per madri sole con i loro bambini e promuove numerosi progetti di solidarietà. Accogliere le mamme in attesa e i bambini insieme alle mamme strutturare la casa in modo che ci fosse anche la culla o il lettino per il bambino così è nata questa casa che poi si è allargata con tante altre iniziative come la solidarietà telefonica come il doposcuola e come anche aiuto ai tanti poveri. Presenti inoltre per la cerimonia inaugurale della struttura dedicata alla memoria di Paola Grimaldi anche membri della Fondazione Grimaldi. Mamma si è dedicata molto a questo progetto perché lei era particolarmente caro e a parte del consiglio per tutti questi anni lo ha seguito veramente con grande attenzione perché questo progetto diciamo di aiutare le donne di ogni nazionalità di ogni religione che si trovano in difficoltà con i loro bambini ed essere accolti qua è stata una cosa tra l'altro che sta funzionando benissimo. Prenderanno il via a marzo i lavori per la nuova stazione ferroviaria di Benevento questa mattina a Palazzo Mosti un vertice per il progetto di rete ferroviaria italiana che prevede un investimento complessivo pari a 30 milioni di euro finanziati con le risorse del PNRR Mastella una svolta storica per la città Uno degli investimenti più importanti per la città un'opera davvero unica Clemente Mastella fa il punto dopo il vertice in programma questa mattina a Palazzo Mosti per il progetto che prevede il rifacimento della stazione centrale di Benevento è in marzo la data fissata per il via ai lavori del progetto di rete ferroviaria italiana che prevede un investimento complessivo di 30 milioni di euro finanziati con le risorse del PNRR Abbiamo superato per grazie Dio con grandi equilibri e con la sensibilità e con l'intelligenza delle varie istituzioni sovrintendenza RFI e il comunimento che ha mediato perché c'erano complessità davvero notevoli per cui posso confermare che dopo questo protocollo abbiamo sottoscritto partiranno i lavori a marzo e saranno lavori di una estensione in termini di investimento di 30 milioni per cui sarà una cosa di grande importanza firmeremo anche successendo un altro protocollo con le ferrovie per quanto riguarda la bonifica dell'aria In dettaglio verrà eliminato il passaggio a livello di via Valfortore quindi realizzato l'asse interquartiere progettato da Zevi Rossi che collegherà la parte alta della città con il rione ferrovie e con la rotonda dei pentri mentre il progetto della stazione centrale ospiterà anche un'importante opera artistica La statua che farà il Mimmo Paladino sono in piedi alcune cose che esteticamente hanno un valore una portata storico monumentale importante al tempo stesso bisognava rispondere a criteri di funzionalità e di staticità e insomma oggi sarà una bella giornata per davvero Acquenirpini e Nelsagno sono oltre 16 comuni ancora secco dopo la frana che ha interessato il territorio di Melite Urpino I lavori di riparazione della condotta saltata per la seconda volta in poche ore a Melite Urpino sono stati ultimati ma ci vorrà ancora del tempo per le operazioni di riempimento dei serbatoi e la successiva erogazione dell'acqua una fase particolarmente lenta delicata e difficile considerate anche le avverse condizioni meteo l'intera città di Ariano Urpino è senza acqua compreso le zone del centro ma lo stesso dramma sta riguardando anche altri 15 comuni tra l'Irpini e il Beneventano il sindaco di Grotta Minarda Marco Antonio Spera ha preannunciato la formazione di un comitato dei sindaci per l'acqua il PNRR chiedendo il patrocino della provincia e della regione Campania l'acqua non deve essere fonte di profitto per i privati ma gestita con la partecipazione dei cittadini mediante aziende speciali regolate non dal mercato ma dal diritto pubblico dichiarato Spera quella di Melite Urpino è una situazione che si trascina da lunghi anni in una zona classificata ad alto rischio idrogeologico come ci conferma il proprietario del fondo in cui si è verificata l'ennesima rottura della condotta Luigi Ruggiero dal 2010 a oggi le perdite sono andate ad aumentare la gravità delle perdite ancora di più perché proprio c'è il dissesto diciamo idrogeologico del terreno c'è un dissesto importante e quindi la condotta viene spostata poi intervengono per la saldatura però è un qualcosa che se non come dire gli enti locali le amministrazioni la regione chi di competenza non prende realmente a interesse questa situazione credo che non si risolverà mai in Campania 3.000 imprese balneari a rischio per le incertezze sulle concessioni è l'allarme lanciato dal presidente regionale di categoria Raffaele Sposito che sollecita il governo a dare risposte definitive al comparto turistico un comparto che in Campania conta su migliaia di imprenditori che rappresentano una fetta importante dell'economia della regione il braccio di ferro sulle concessioni dei balneari spinge le associazioni di categoria a far sentire la propria voce come spiega Dotto Channel il presidente di FIBA Confesercenti Campania Raffaele Sposito i cosiddetti codici Ateco tralasciano qualche cifra qualche numero però stiamo parlando di almeno 3.000 imprese 4.000 imprese che sono direttamente collegate alla risorsa mare al turismo all'ospitalità ma anche alla balneazione quindi insomma va da sé che il comparto è importante strategico dal punto di vista della scelta della destinazione delle proprie vacanze e quindi è un comparto al quale va assicurato il massimo coinvolgimento ma la massima tutela possibile La categoria punta sull'impegno assunto tempo fa dal governo e dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni a trovare una soluzione strutturale ad un problema che si trascina da troppo tempo Sono troppi anni che si vive nell'incertezza nello scaricabarile nei cavilli della burocrazia insomma ci sono alibi e ci sono stati alibi per tante per troppe persone che si sono alternate al governo adesso è arrivato il momento di porre in essere una soluzione definitiva concertata armonica che tenga in considerazione anche le spiagge libere certo ma soprattutto che salvaguardi chi oggi ha investito per tutelare il proprio lavoro Il Tg termina qui ora ci sono le previsioni meteo a voi tutti grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Otto Channel Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti